Bentornati a Un Pass per il Benessere. Restiamo con Giorgio Terziani che è Visit Professor in Discipline del Benessere alla St. George School di Brescia e responsabile di un progetto di divulgazione medico-scientifica sull'importanza dell'ossigeno. Ben ritrovati. Buonasera a tutti. Allora oggi parliamo di inquinamento, avremo poi qui anche in studio un dispositivo per l'analisi della nostra salute, del capello in particolare, e lo vedremo dopo come funziona. La prima domanda che le voglio fare per introdurre la puntata è perché il DNA non è il nostro destino? Questa è una domanda importante perché spesso noi pensiamo che non possiamo fare niente per la nostra salute. Oggi parliamo di salute e di prevenzione. In realtà il DNA non è il tuo destino è perché il 2% è dovuto al nostro DNA, quindi non possiamo cambiare i nostri genitori che ci l'hanno donato, ma il 98% è epigenetica, è il software della vita. Quindi pensa quanto l'epigenetica possa influire sulla nostra salute, sulla salute delle nostre cellule, sulla nostra vita. E l'epigenetica cos'è? È tutto quello che noi assimiliamo, o tutto quello che viene trasmesso dalla salute dei padri, delle madri, prima del concepimento, in termini di impatto ambientale, inquinamento, e soprattutto quello che loro hanno mangiato, bevuto, respirato, quindi, ma anche lo stress che hanno avuto. Questo è epigenetica, cioè l'imprinting epigenetico. Quindi dovremmo chiederci cosa stiamo facendo oggi per essere dove vogliamo essere domani. E in termini di modo di pensare, dell'ambiente dove stiamo vivendo, quello che stiamo mangiando, se noi andiamo avanti possiamo vedere che la domanda che faccio da sempre è questa. Quando è l'ultima volta che hai sentito parlare di inquinamento? Perché spesso ci dicono sempre ah, mangia bene, devi bere bene, tutto quello che vogliamo, ma non teniamo mai presente l'impatto che l'inquinamento ha sulla nostra salute. Se questo è la nostra realtà, lo stress, la depressione, la farmacodipendenza, l'affaticamento, l'anoressia, l'obesità, e a cosa sono dovuti queste cose? Soprattutto dall'impatto ambientale e dal nostro stile di vita. Tutto questo che voi vedete sono tutti fattori che condizionano la nostra salute. L'aria che respiriamo, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, l'ossigeno, i nostri mitocondri, i fattori come quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, i campi elettromagnetici, però questi fattori sono quelli di 100, 200, 300 anni fa? La risposta è no. No, ovviamente. Sono tutti questi fattori oggi sono contaminati da agenti chimici, inquinanti, particolato aero disperso, che noi respiriamo o mangiamo e progressivamente fanno sì che intossicano o danneggino o condizionano la salute delle nostre cellule. Perché? Perché l'epigenetica, che descrive proprio la riprogrammazione delle nostre cellule, lo vedremo, è in realtà una segnalazione di quello che ci accade intorno a noi, dell'ambiente e di quello che pensiamo e di quello che mangiamo. Quindi sono molecole che condizionano la salute delle nostre cellule, segnali, segnali sono anche frequenze, che condizionano il nostro corpo e il metabolismo delle nostre cellule. Se andiamo avanti, vediamo che noi oggi possiamo avere e conoscere quali sono i fattori che condizionano la nostra salute a partire dalla carenza di ossigeno, a cominciare dalle carenze nutrizionali, vitamine e minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, l'impatto ambientale. Quanto sarebbe importante conoscere se l'ambiente in cui viviamo è sano? Per esempio, quanto ci condiziona il telefono che utilizziamo, il computer che utilizziamo, se siamo intossicati da metalli pesanti, da sostanze chimiche, da idrocarburi dell'area che respiriamo. Ci sono tantissime fonti inquinanti, qui ne vediamo alcune e se solo incominciassimo a comprendere, conoscere quali sono proprio questi fattori e cominciare dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, chimico, batteriologico, idrico, marino, l'inquinamento del suolo. Beh, dice, ma come facciamo? Noi dobbiamo assolutamente conoscere, perché se conosci, diceva una vecchia pubblicità, se lo conosci lo eviti. Quanto è importante conoscere l'impatto ambientale e gli inquinanti che possono danneggiare la nostra salute è fondamentale oggi, soprattutto per le future generazioni. Pensate che l'inquinamento sia un grosso problema da risolvere, Loretta? Cosa fate voi ogni giorno per risolvere i problemi dell'inquinamento? Te lo dico io. Niente. Perché pensare di fare la raccolta differenziata non è risolvere i problemi dell'inquinamento, perché anche gli inceneritori spesso, che sono importanti per smaltire la spazzatura o i rifiuti, però poi emettono un particolato a error disperso come ci insegna uno dei massimi esperti che è il professor Burgio, ci insegna proprio quanto sia importante l'epigenetica per la nostra salute, beh, questi sprogrammano la vita, questi inquinanti, già a livello fetale. Se noi vediamo quanto è importante questo aspetto, dovremmo non pensare solo all'equilibrio nutrizionale, ma ambientale e psicofisico. Andando avanti vediamo che noi possiamo sicuramente consigliare uno stile di vita sano, anzi, sono medici professionisti bravissimi, ma può un medico dire cambia città, cambia lavoro, cambia il luogo dove dormi? Eppure pensa che i luoghi di vita e di lavoro, quelli chiusi, sono dalle 4 alle 5 volte più inquinati che all'esterno, perché nell'ambiente dove noi viviamo non piove, non tira vento, quindi non c'è un ricambio, quindi c'è un bioaccumulo di sostanze spesso nocive. E poi la pianura padana è tristemente nota per avere dei primati in questo campo. Detersivi che utilizziamo si essicano e poi diventano questa polvere che respirano, pensa ai bambini quanto gattonano. E poi c'è un forte impatto ambientale, lo vedremo da campi elettromagnetici. Il cibo ha un ruolo fondamentale, quindi la nutrizione sana modula dal 60 al 70% l'epigenetica delle nostre cellule e della nostra salute. Quindi mangiare sano fa tanto, aumenta le difese immunitarie. Se mandi cibi, scegli cibi sani, verdure, frutta, di stagione, non mangiare cibi raffinati, gli zuccheri che possono comunque creare un impatto, un danno notevole al nostro organismo. Quindi i carboidrati raffinati non vanno bene. Ecco, questo è tutto, fa parte dell'epigenetica. È tutta epigenetica. E naturalmente c'è un ruolo importante anche del DNA, perché siamo anche quello che ereditiamo dai nostri genitori. Però l'epigenetica è fondamentale. E come il ritmo sonno-veglia? Spesso viene sottovalutato il fatto del riposo, quanto è importante riposare durante la notte. Sai che noi quando va giù il sole cosa facciamo? Riaccendiamo la luce. Non è naturale. Siamo gli unici esseri che accendono la luce e si rimettono a fare una vita magari anche notturna. Basta pensare lavori notturni, discoteche. Quanto questo può stressare il nostro organismo? Tantissimo. Perché noi alla notte abbiamo bisogno di riposare, di depurare, di sintossicare il nostro organismo, riprogrammare le nostre cellule. Quindi il sonno è fondamentale. Il ritmo sonno-veglia è fondamentale. Anche per i bambini, soprattutto. Per i bambini. Si è un po' persa questa cosa. Si è persa. Chi è che va a letto dopo carosello oggi? Non c'è nemmeno. Non c'è neanche più carosello. Quindi, se noi andiamo avanti, quanto questo inquinamento, vedete come viviamo e come dormiamo? Come possiamo pensare di vivere in salute se noi poi anche mangiamo male? Non abbiamo un sistema antiossidante appropriato per combattere lo stress sedativo causato di tutti questi fattori? ci mancano proprio i nutrienti essenziali, la capacità antiossidante di contrastare gli accessi radicali liberi, l'ossigenazione dei nostri tessuti. Manca anche consapevolezza perché adesso lei ci sta spiegando queste cose che sono molto chiare ma chi di noi va a pensare quando è nel suo letto al buio, nel silenzio uno pensa di essere tranquillo, in pace, a posto. Invece vediamo da questa slide quante interferenze ci sono con il nostro benessere quindi i vari tipi di inquinamento che vediamo in questa slide. Assolutamente ma se andiamo avanti poi dopo ci ritroviamo al fatto che contiamo, facciamo le statistiche sulla mortalità ma dobbiamo fare statistiche sulla qualità della vita quindi aggiungere anni alla vita e quegli anni devono essere di qualità come correre una maratona anche camminando a 80 anni fare una rampa di scale quindi invecchiare in salute e da cosa dipende? Da quello che noi facciamo durante la nostra vita quindi l'obiettivo della vecchiaia è un come un mettere i soldi in banca noi siamo abituati solo a prenderli magari non ce li mettiamo mai e poi finisce la nostra disponibilità la salute è uguale quindi quanto metti nella tua banca della salute oggi in termini di remitilazione del DNA che è l'aspettativa di vita la lunghezza dei telomeri determina l'aspettativa di vita questo viene trasmesso dai nostri genitori anche come telomerasi dipende dallo stress solite cose alcol fumo passivo vuoi un bambino non devi fumare devi stare molto attento perché il fumo condiziona pesantemente la salute poi delle future generazioni e dei tuoi figli quindi bisogna stare attenti e anche la fertilità stessa in realtà la fertilità gli inquinanti oggi ci sono molti più problemi di infertilità brava Loretta qui è fondamentale pensa che la Siro dice che stiamo raggiungendo il 60-70% di infertilità a livello europeo Italia al primo posto dovuta a impatto ambientale sul liquido seminale è stato dimostrato che dalla Siro dal professor Luigi Montano uno dei più grandi esperti che abbiamo ecco food fertility ha dimostrato proprio che nel liquido seminale maschile già a 16 anni pieno di metalli pesanti inquinamento idrocarburi e questo sta distruggendo la possibilità di essere fertili perché danneggia anche i mitocondri quindi come abbiamo detto nella puntata precedente l'omocisteina che è un biomarker fondamentale del rischio cardiovascolare non solo viene poco consigliato eppure è fondamentale tenere sotto controllo l'omocisteina è un valore che si può avere dagli esami del sangue sì è un esame del sangue è un biomarker il professor Mauro Miceli è uno dei più grandi esperti in questo settore e ci dice attenzione ogni punto 6 sopra 6 raddoppia il rischio cardiovascolare tenerlo sempre sotto 10 questo valore dell'omocisteina come il colesterolo ossidato quindi l'LDL ossidate l'emoglobina glicata sono esami molto importanti per la nostra salute ma anche lì quali sono le cause ecco perché bisognerebbe fare degli esami anche proprio per evitare certo perché si vede già l'effetto ma non si capisce qual è stata la causa quale fattore per esempio inquinante ha inciso su questo valore alto nel sangue esatto Loretta infatti quello che vedevamo prima era proprio questa possibilità di regolare l'omocisteina attraverso un apporto giusto di nutrienti come vitamine amminoacidi come l'eserosimetionina l'apporto di ossigeno il nutraceutico self food è fondamentale per modulare lo abbiamo dimostrato con la ricerca scientifica che siamo riusciti a abbassare l'omocisteina in questi pazienti con l'omocisteina alta aumentare il glutatione che è un potentissimo antiossidante e riattivare i mitocondri avanti quindi lavoriamo sul sistema immunitario avanti che non è solo dovuto a un attacco dai virus ma da tanti fattori stress inquinamento i defetti genetici viene debilitato proprio da tutte le cose che ci ha spiegato lei in primis l'inquinamento di cui ci sta parlando oggi sì quindi cos'è l'epigenetica che è questa nuova branca della medicina poi nuova è tutto quello che noi dicevamo no? attenzione tu sai quello che mangi che bevi che respiri l'abbiamo sempre saputo questo beh l'epigenetica però questo sprogramma la vita già a livello fetale quindi è la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle cellule senza modificare il DNA è il rimodellamento della cromatina che viene a livello istonico quindi questi istoni che attaccati dagli agenti tossici inquinanti sbloccano lo srotolamento del DNA e quindi creano un'informazione sbagliata su quello che dovrebbero fare le cellule ecco perché poi c'è infiammazione infiammazione cronica e malattia in poche parole noi siamo predisposti geneticamente perché l'abbiamo ereditato certi geni a certe malattie ma non è detto che poi le sviluppiamo soprattutto se abbiamo uno stile di vita corretto e abbiamo e assumiamo i minerali le vitamine tutte le sostanze che ci servono nel modo corretto giusto? sì in realtà è proprio così perché l'epigenetica è irreversibile ecco perché il DNA non è il tuo destino però è chiaro che tutti questi fattori determinano un condizionamento molto fondamentale per la salute delle nostre cellule noi siamo anche reali rischi congeniti quando nasciamo linea materna disfunzione mitocondriale come parlavamo nella settimana nella puntata scorsa la disfunzione mitocondriale la costituzione e poi naturalmente certe predisposizioni anche genetiche è chiaro avanti ecco perché è importante la salute dei padri delle madri prima del concepimento perché le cellule sane si moltiplicano in maniera sana si differenziano in maniera sana e mettiamo al mondo bambini sani ma guardate la statistica 500.000 morti premature in Europa e l'Italia è al primo posto sempre dovuto all'inquinamento è un allarme sociale e in aumento avanti quindi dobbiamo tutelare la vita se andiamo avanti vediamo che 467.000 morti l'anno per inquinamento quindi pensate i danni che stiamo facendo alle future generazioni guardate questa è la fotografia che non vogliamo assolutamente vedere facciamo finta di nulla però pensate cosa c'è intorno alle nostre città le periferie cosa c'è nelle varie terre dei fuochi abbiamo oltre 200 terre dei fuochi avanti ricordiamo cosa sono abbiamo già parlato ma cosa sono le terre dei fuochi ricordiamo cosa sono le terre dei fuochi ne abbiamo già parlato dove vengono naturalmente nascosti sotterrate questi questa spazzatura e poi viene data fuoco oltre 200 ne conosciamo conosciute poi c'è 98.000 siti di amianto a bonificare comunque andiamo avanti perché la sigaretta lo sappiamo è veleno inquina come l'istituto tumori l'ha detto come più di un tir e di un Harley Davidson eppure noi fumiamo in un luogo chiuso e il fumo passivo in un luogo chiuso pensa ci mette una boccata 500 ore per cadere al suolo quindi fumo fa male poi sostanze chimiche andiamo avanti statistiche di linfosato lo conosciamo avanti tutto il discorso legato alla statistica dei tumori e i fattori di rischio sono sempre i soliti che abbiamo parlato l'esposizione il danno cellulare avanti tutte le sostanze nocive per il nostro organismo a partire dai metalli pesanti e il radon avanti avanti la sprogrammazione della vita a livello fetale questo è uno studio importante documento del senato della repubblica 2018 che ci dimostra che l'impatto ambientale sprogramma la vita avanti i campi elettromagnetici non possiamo pensare di dare il cellulare se andiamo avanti guarda cosa accade nel cervello di un bambino diamo i cellulari come babysitter invece danneggiamo la salute delle future generazioni anche la nostra dormiamo col cellulare no cellulare fuori dalla stanza spengete il wifi e proteggetevi avanti il wifi è un problema avanti quindi dormiamo e viviamo così avanti fino ad arrivare avanti possiamo andare avanti allo stress sedativo persone che diventano elettrosensibili oppure con sensibilità chimica multipla dovuta proprio a questo inquinamento e guarda non possiamo far vivere i bambini così in questo ambiente avanti infertilità lo abbiamo parlato possiamo andare avanti ecco dobbiamo diventare saggi come si fa a diventare saggi? avanti dobbiamo fare una medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa fare cultura creare cultura nelle scuole negli asili nelle famiglie dobbiamo fare prevenzione Loretta parleremo ancora di questi temi se lei è d'accordo nelle prossime puntate perché adesso mi dedicherei al nostro dispositivo volentieri perché ci può dire tante cose sulla nostra salute a partire da un'analisi del capello sì guarda questo è un report un report di 36 pagine sul sistema immunitario dove ci dice tutto quello che condiziona il nostro sistema immunitario noi abbiamo un software dove inseriamo i dati della persona quindi nome cognome i suoi dati la data di nascita e cosa facciamo la mappatura avviene attraverso un dispositivo unico al mondo che si chiama S-Drive è una tecnologia tedesca e russa e come ci insegna il professor Pier Giorgio Spaggiari questa tecnologia è in grado di generare uno spettro di frequenza dall'ultravioletto all'infrarosso cosa fa quando noi mettiamo i dati e poi preleviamo questo biomarker che è il cappello della persona il bulbo del cappello che come sappiamo viene utilizzato per conoscere sostanze chimiche che intossicano la persona se fa uso di sostanze superfacenti la NASA lo utilizza per valutare la salute della persona degli astronauti quindi è un biomarker molto affidabile cosa facciamo mettendo i capelli sopra l'S Drive la scansione noi adesso possiamo fare la scansione se volete vi faccio vedere come funziona quindi facciamo la scansione in questo modo tra l'altro in soli 12 minuti ottiene un sacco di informazioni qui abbiamo un donatore che ci ha fornito i capelli vedremo che ci diranno un sacco di cose su quello che ha fatto recentemente su quali inquinanti sono venuti a contatto con questa persona viene prelevato il capello con le pinzette dalla zona occipitale dietro la testa viene messo nel pozzetto di S-Drive facciamo questa scansione che genera che fa generare a S-Drive uno spettro di frequenza dall'ultravioletto all'infrarosso che va in risonanza con le frequenze del bulbo del capello non è niente di nuovo perché noi se andiamo a fare la risonanza magnetica la risonanza va in risonanza con gli ioni idrogeno è un esame l'elettrocardiogramma misura le onde del nostro cuore quindi è un esame biofisico che va in risonanza quindi con le informazioni di chi? della persona che ci ha dato i suoi capelli pensa che queste informazioni vengono mandate ad Hamburgo a Hamburgo c'è un elaboratore di dati un algoritmo che in 12 minuti ci ridà un report di 36 pagine e questo report l'abbiamo per il sistema immunitario per rigenerare le cellule oppure per gli sportivi oppure per i bambini abbiamo anche il test che si può fare per i bambini e la panoramica dei dati è questa ci dice guarda cosa non sta andando nel tuo sistema sei sotto stress hai un equilibrio microbico intestinale da mettere a posto hai mettere a posto le proteine oppure il metabolismo degli zuccheri perché ecco nell'altro riquadro come vedete c'è tutto la panoramica dei fattori che stanno danneggiando e stanno creando quel problema come in questo caso se andiamo avanti vediamo le sfide ambientali sostanze chimiche idrocarburi ci sono in questo caso delle carenze come vitamine biotina vitamina B12 quindi la remitilazione del DNA sistema immunitario gli acidi grassi essenziali sono in carenza a questa persona oppure a carenza di minerali e quindi è una medicina personalizzata predittiva integrata la medicina funzionale che poi naturalmente il medico che farà l'anammesi al paziente metterà insieme i dati tra quello che dice S-Drive e il suo protocollo la sua diagnosi e il suo metodo di lavoro il sistema prevede anche alcune indicazioni di tipo alimentare sugli alimenti che andrebbero evitati e quelli invece consigliati perché contengono o meno una sostanza spesso non si è allergici a quella sostanza ma spesso si è allergici per esempio al fatto che quel cibo questo non è un esame di allergia o intolleranze alimentari non c'entra nullo ma incompatibilità perché magari quei cibi sono coltivati male e noi magari mangiamo delle fragole d'inverno e non va bene o pomodoro d'inverno non va bene e allora spesso magari oppure siamo sensibili al grano al glutine ecco S-Drive ci permette in pochissimo tempo di avere un quadro della persona personalizzato pensa che ci sono oltre 250 centri in Italia medici che fanno questo test quindi nutrizionisti medici operatori del settore che sono in grado proprio di di dare una risposta ottimale a cosa alla possibilità di conoscere quello che ci sta danneggiando a scopo preventivo predittivo quindi poter avere un esame come questo penso rivoluzionario unico al mondo in solo 12 minuti e intervenire poi con una dieta personalizzata nutraceutici in grado di modulare l'ossigeno a livello cellulare riattivare quindi la funzionalità mitocondriale penso che sia una grande sfida anche perché a volte conviviamo con degli inquinanti o delle radiazioni senza nemmeno saperlo tramite questo esame invece per esempio la presenza del radon la rileva nell'ambiente in cui viviamo sì il radon che non conosce nessuno come sapete viene un gas radon dalla terra e questo condiziona molto la qualità della vita a livello polmonare e non solo anche proprio come radiazione che poi decade e diventa polonio quindi è dannoso per la nostra salute ecco davvero insomma molto interessante io la ringrazio per il tempo purtroppo stringe la ringrazio per le informazioni però che è riuscito a darci in questa mezz'ora di puntata di trasmissione nelle prossime di cosa parleremo? è sempre un piacere poter contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone quindi grazie della vostra ospitalità io direi che secondo me sarebbe molto importante approfondire proprio quanto l'inquinamento può veramente danneggiare quali sono gli inquinanti magari parleremo anche di vitamine minerali insomma avere un quadro importante per poter creare prevenzione cultura informazione prendersi a cuore della propria vita e poi anche tutto personalizzato quindi magari consigli più rivolti agli sportivi ai bambini come ci diceva ovviamente la ricerca va avanti anche su vari fronti assolutamente sì grazie Giorgio Terziani grazie a voi e grazie a voi telespettatori continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti